Grazie a tutti. Francesca? Luca? Francesca? Luca? Aspetta! Vieni qua che parliamo del koala ammasturbatore! Ehi Jenny! Ciao Jenny! Ciao Jenny! Ciao! Eh ma vieni qui! Ciao Jenny! 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 Ciao! Grazie Luca! Ma ogni tanto c'è stop anch'io presso la pellicolina. Allora questo è un video, non è una foto quindi non so come muoverci. Sì potete anche muovere, potete anche andarvene già che ci si è dai poi. Una, due, tre, quattro. E quello è il cacciatorpediniere. Ciao!